bella a tutti ragazzi qui Teddy e benvenuti finalmente ad un nuovo video sono scomparso per un po' ma per problemi fisici è stata una settimana travagliata dal punto di vista fisico fortunatamente sono riuscito a mettere a posto sto continuando a mettere a posto i miei problemi e possiamo parlare finalmente di parte della free agency non tutta una parte siamo ancora in corso siamo ancora in periodo della moratoria quindi le firme vere e proprie sui contratti avverranno il 6 di luglio perché lì finisce la moratoria ed inizia la vera e propria free agency c'è un po' di cui parlare di cui discutere ma voglio concentrarmi su due tre argomenti in particolare in questo video in particolar modo ovviamente la trade per Rudy Gobert e ovviamente il caso che sta tenendo banco ai Brooklyn Nets con ovviamente la situazione di Kevin Durant che lascia presagire un pochino la situazione comunque detto questo direi di partire con una cosa strana del salary cap e delle regole salariali che girano attorno a questo mondo perché qualcuno potrebbe chiedermi streamer ma pjtac era firmato un triennale a 30 milioni con i 76ers ma non è possibile perché quella è la full mid level exception che si può non taxpayer mid level exception la mid level exception non taxpayer può permettere di firmare contratti fino ad un massimo di tre anni e questo è appunto un triennale a 30 ma com'è possibile che Philadelphia ha la non taxpayer mid level exception se l'anno scorso erano taxpayer se i contratti sono taxpayer se la somma del team salary è da taxpayer perché Arden è uscito dal contratto quindi uscendo Arden dal contratto permette a Philadelphia di firmare pjtacar con la non taxpayer mid level exception quindi volevo solo farvi vedere questa cosettina qua tra l'altro discorso diverso è per john wall che invece ha firmato alla taxpayer mid level exception con i los angeles clippers quindi quei sei milioni e mezzo che avete letto di john wall quindi quei 13 milioni per due anni sei e mezzo sei e mezzo la taxpayer mid level exception permette di firmare free agent con due anni di contratto infatti un biennale 6 milioni e mezzo è il valore della taxpayer mid level exception quindi john wall ha firmato la full taxpayer mid level exception per i clippers per due anni tra l'altro questo cosa vuol dire vuol dire che i clippers sono hard cappati perché una squadra diventa hard cappata per tutta una serie di motivi tra i quali utilizzare tutta la taxpayer mid level exception oppure più della taxpayer mid level exception fino alla full mid level exception quindi se una squadra utilizza 8 milioni di non taxpayer mid level exception è hard cappata sì perché è maggiore dei 6 milioni e mezzo di appunto della taxpayer mid level exception quindi anche philadelphia si hard cappa con questa mossa comunque per tutte le varie cose ricordo che c'è sempre il video ok il famoso video ricordo anche che ci tornerà ad aiuto questa parte qui più tardi ma quindi questo è quanto per quanto riguarda le cifre della nuova stagione mba sono tutte sulla sinistra sono confermate ufficiali mba e come vedete facendo i calcoli appunto troviamo i 251 milioni di bradley bill troviamo i 215 milioni di zaclavin come estensione di conseguenza è tutto rientra tutto è tutto spiegato torna tutto a livello numerico salariale per quanto riguarda le cifre che avete visto le estensioni rientra anche tutto per quanto riguarda le estensioni ho sbagliato le estensioni per quanto riguarda invece il le rose rule come vedete questi 193 milioni sono i contratti che hanno firmato garland e zion che potrebbero diventare 231 se diventano a tutti gli effetti cinque anni di contratto o al quinto anno diventano comunque scatta la rose rule ovvero la rose rule è un'eccezione salaria diciamo non è un'eccezione salariale è una regola che permette di firmare un'estensione del contratto da rookie non al 25 per cento ma al 30 per cento del salary cap questo perché perché il giocatore rientra in quelli che sono definiti max performance base criteria ovvero o il team nba nella stagione corrente o nell'ultima stagione o due volte nelle ultime tre o in due delle ultime tre difensi pre of the year nell'anno precedente o due volte nelle ultime tre oppure vince la mvp in almeno una delle ultime tre stagioni ok quindi per un rookie se fa una di queste tre cose scatta non il 25 per cento ma il 30 per cento del salary cap ok quindi l'estensione se vogliamo l'estensione se vogliamo di la vin ok quindi il contratto di la vin lo può prendere un rookie se scatta la rose rule ovviamente le estensioni sono fatte in proiezione sugli anni successivi quindi i soldi sono maggiori comunque questo era per quanto riguarda pj taker appunto che c'era questa piccola cosettina del fatto che arden è uscito dal contratto quindi i 76ers scendono sotto di tasse quindi si apre la non taxpayer mid level exception per firmare pj taker a questi soldi perché filadelfia non ha spazio salariale per poter firmare qualcuno se non minimi salariali oppure con la non taxpayer mid level exception in questo caso adesso bisogna vedere arden a quanto firma perché ovviamente le cifre dovranno essere contenute o comunque non sarà il massimo salariale non sarà il super massimo salariale saranno cifre molto più basse per poter permettere appunto l'inserimento di pj taker ed eventualmente anche una trade per tobias harris io continuo a vedere sacramento come un suitor potenziale e maggiore per tobias harris con ritorno una trade a tre secondo me eri gordon finirà a filadelfia in qualche modo perché hanno firmato pj taker hanno fermato danuel house morey li sta portando tutti di nuovo da da houston a philadelphia insieme ad arden quindi per me eri gordon in qualche modo ci finisce tra l'altro ve lo dissi già settimane fa vi dissi secondo me gordon finirà a philadelphia perché morey vuole portarsi tutti quelli che aveva houston pj taker arden e house ci siamo capella un po difficile visto in bid però arisa è morto però con eri gordon c'è ancora speranza ovviamente bisogna spostare adesso andando via mandando via quella merda di danny green ovviamente c'è l'unica opzione rimasta è chiaramente l'opzione di tobias harris quindi per me tobias finirà a sacramento a philadelphia probabilmente finiranno barnes e gordon ty bull andrà ai kings insieme ad harris per facilitarla trade mentre pick e filler finiranno a houston che si accontenta anche di quello secondo me per eri gordon vista la situazione e e quindi una trade potrebbe essere questa comunque parliamo anche un attimo del sempre di houston però del buy out di john wall perché molti mi avete chiesto cos'è un buy out perché il buy out ma quindi wall quanto piglia ma quindi che è successo ma quindi ricordando sempre che alla bibbia al capitolo che si trova al 57 minuti e 35 secondi waivers buy out potete avere tutta la full story vi dico quello che è successo con john wall allora john wall ha accettato la player option quindi 47 milioni houston cosa ha fatto houston gli ha detto guarda facciamo un buy out quindi cos'è il buy out il buy out è un taglio del giocatore quindi il giocatore viene svincolato diventa free agent ma il giocatore prende un pay cut quindi un taglio normale il giocatore prende tutta la parte garantita del suo stipendio quella di john wall era tutto il contratto quindi 47 milioni quindi cosa succede se houston avesse tagliato normalmente john wall wall avrebbe percepito 47 milioni ma a team salary quei 47 milioni sarebbero rimasti ok quindi quei 47 milioni sarebbero rimasti a salario di houston e ancora adesso dopo il buy out quei soldi sono sono a team salary di houston quindi wall per facilitare il processo cosa ha detto va bene rinuncio a una parte del mio stipendio rinuncio a 6 milioni e mezzo che strano alla taxpayer mid level exception chissà perché ha rinunciato a 6 milioni e mezzo quindi houston ha detto va bene ok io ti faccio il buy out togliamo 6 milioni e mezzo ai tuoi 47 quindi quei 40 40 e mezzo 41 che rimangono te li paghiamo noi quindi wall percepisce 40 40 e mezzo 41 da houston e poi prende 6 e mezzo con i creepers quindi wall quest'anno prenderà comunque 47 milioni ma 40 sono di houston e 6 e mezzo sono dei creepers ok quindi questo è il buy out di john wall con i rockets quindi wall comunque piglia 47 milioni quest'anno ok questo è la chiave di tutto è che wall comunque li piglia di riffa o di raffa li piglia comunque ok perfetto e questo è per la situazione quindi rinnovi di bill e di e di la vin abbastanza a questo punto quello di la vin era scontatissimo quello di bill molto di meno ma ripeto 251 milioni probabilmente non li avrebbe rifiutati nessuno forse anche forse anche giustamente verrebbe da dire no nel senso che comunque 251 sono 251 milioni passano una volta nella vita si può anche chiudere un occhio mettiamola così direi di passare a alla parte quello un pochino più importante quella un pochino più sostenuta no quella un pochino più che tiene banco ovvero la trade per gobert una trade mastodontica una trade che vede coinvolte 45 pic un pic swap tre non protette la pic di quest'anno di minnesota e qualcuno potrebbe chiedermi streamer ma com'è possibile che minnesota manda il giocatore che hanno draftato quest'anno ok quindi walker kessler walker che l'hanno draftato alla 22 e la pic 2023 non c'è la regola stapien no la regola stapien dice che una squadra non può non scegliere per due anni consecutivi avendo minnesota scelto quest'anno ha scelto poi se trade alla pic dopo non gliene frega niente a nessuno la 2023 non viene considerata come pic consecutiva nel non aver scelto e quindi può mandarla ovviamente non viene mandata la 2024 perché nel 2023 quella pic non sceglie minnesota ok quindi si parla di malik bisley patrick beverly vanderbilt bolmaro kessler walker che sarebbe la pic 22 di quest'anno la 23 la 25 la 27 non protette e la protetta 2020 2029 protetta in top 5 e qualcuno può chiedermi streamer cosa ne pensi di questa trade passiamo al caso durant allora il caso durant è ovviamente un caso che sta tenendo molto banco in questo momento cosa è successo kairi non si sa cosa vuole fare alla fine accetta la player option chissà come mai qualcuno già lo disse che avrebbe accettato la player option qualcuno disse guardate che kairi deve accettare quella player option 1 perché quei soldi non li vede più se diventa free agent 2 se fanno sign and trade i nets non lo vogliono fare e quindi non lo scambiano per sign and trade col cazzo che fanno sign and trade dovrà accettare quella player option e da lì si vedrà ora poi le persone iniziano a dire no ma adesso che ha accettato la player option rimane sicuramente con kairi falso lui ha accettato la player option semplicemente per facilitare ulteriormente lo scambio non per rallentarlo impedirlo semplicemente per facilitarlo perché perché visto anche il suo stato mentale da pazzo psicopatico quale è diventato oramai mi dispiace dirlo ma oramai è così è un oramai sembra staccato completamente dal mondo dal pianeta terra almeno cioè la terra gira in un modo lui gira completamente al contrario anche se lui crede che la terra sia piatta quindi insomma potevo scegliere un paragone migliore effettivamente però a parte questo non ci sono franchigie che danno nel massimo salariale né firmano kairi a lungo termine viste gli ultimi anni dove insomma ne ha fatte di tutti i colori ecco di conseguenza quella player option è l'unica cosa che lo tiene legato uno alla possibilità di avere un nuovo contratto l'anno prossimo due di poter lottare per il titolo quest'anno e infatti ha accettato quella player option qual è l'inghippo però l'inghippo è che durent ha chiesto la trade pure lui ora ci sono due diciamo strade da seguire una strada dice che loro due vogliono giocare ancora insieme ma non a brooklyn e questa è una strada impercorribile ok qualcuno può chiedermi avete chiesto in tantissimi streamer ma allora i lakers possono prenderli entrambi la risposta è sì westbrook più ad più tucker più le due prime le due pick che hanno i lakers disponibili al primo giro al momento più un pick swap eventuale ovviamente perché insomma per kd devi dare via tutto anche ad perché kd vale il doppio il triplo di anthony davis ed è così c'è sulla carta la possibilità di prenderli? sì ma è impossibile è una pratica impossibile adesso vi spiego semplicemente il perché è impossibile che questa trade accada a meno che non ci sia il più grande heist il più grande furto della storia in una trade nba perché sarebbe un furto clamoroso dei lakers questo è poco ma sicuro cioè prendere Kyrie e Durant per westbrook e davis sarebbe una roba sarebbe un furto abnorme da parte dei lakers ma contro l'acromafia non ci si mette mai contro e non diciamo che la mano sul fuoco di solito ce la si mette e non ci si scotta con l'acromafia però a parte questo c'è un piccolo inghippo per quanto riguarda questa situazione ovvero che per Durant che è un quadriennale garantito il ritorno deve essere mastodontico il più grande ritorno potenzialmente che la storia abbia mai visto e uno mi dice ma streamer ma hai visto per gober che è stato dato quindi per kd cosa bisogna dare? allora per gober sono state date 4 pick sostanzialmente perché il ritorno diciamo la merce di scambio era praticamente meno di 0 sta roba è negativa ok? cioè vale meno di 0 ok? sono contratti che Utah non vorrebbe pagare mai nella vita tranne ovviamente quello di Castle Walker che è un rookie quindi è un contratto basso ma soprattutto va a come dire si va a verificare com'è il giocatore Utah sembra entrata in un'ottica di semi rebuilding ovvero di comunque tenere Donovan Mitchell ringiovanire la squadra e cercare di costruire attorno a Donovan Mitchell da questo punto di vista quindi cercare di portare di spostare l'orologio del tempo più avanti di qualche anno rispetto al vincere adesso firmando Conley a cifre assurde e cercare di creare come i Warriors pezzo per pezzo la propria scalata verso il titolo ora c'è un contratto che ancora aiuta che non si sa perché sia lì che è quello di Bogdanovic quindi io ripeto occhio perché Bogdanovic non è detto che rimanga aiuta e secondo me non ci rimane è un contratto troppo scomodo 19 milioni in scadenza per una squadra che vuole costantemente ringiovanirsi l'abbiamo visto con la trade per Gobert abbiamo visto anche che Roy Sonnili è stato mandato via per un'altra picca al primo giro dei Nets quindi chiaramente l'ottica è quella di cercare di recuperare asset e di ringiovanire la squadra Bogdanovic ha 33 anni quindi onestamente secondo me cercano solo un acquirente cercano qualche contender che abbia bisogno di quel giocatore e che abbia evidentemente i contratti da poter dare per pareggiare salarialmente però sostanzialmente iuta cerca va in questa in questa direzione e allora qualcuno potrebbe dirmi quindi ok quindi questo vale meno di zero quindi quattro pic sono praticamente quello che vale Gobert cioè era il ritorno a livello di pic è stato altissimo perché il ritorno a livello di giocatori era bassissimo ed è così per Durant la situazione è decisamente diversa perché i Nets non si accontentano di 4-5 pic al primo giro è troppo poco è troppo poco 4-5 perché perché Durant è un quadriennale garantito cioè Durant sai che rimane lì lo devi scambiare tu ma se lui non gli girano i coglioni e chiede la trade rimane lì punto quindi è chiaro che per il giocatore che è Durant per il suo valore per la sua abilità e il suo contratto il ritorno deve essere abnorme mastodontico quindi i Nets vogliono un giocatore giovane facciamo 2 i Nets vogliono 4 pic al primo giro facciamo anche 5-6 deve essere una roba veramente veramente mastodontica deve essere qualcosa di veramente nell'iper spazio a livello di asset a livello di trade a livello di inserirsi nel contesto per arrivare a prendere Durant non basta semplicemente interessarsi bisogna tirar fuori tutto quello che si ha cioè qui è come è come se Cristiano Ronaldo al top della sua carriera lasciasse Real Madrid e dicesse chi mi vuole mi prenda però ovviamente devi andare con i soldi ok qui di soldi non si parla perché Durant ha il contratto garantito quindi non si parla di un free agent si parla di un giocatore sotto contratto quindi i soldi sono quelli ma gli asset sono alla merce di tutti detto questo c'è un piccolo problema Durant ha dato due squadre due come principali Phoenix Suns numero uno ovest Miami Heat numero uno est ora non sarò qua a parlare del Durant Snake di quello che vuol vincere perché non è il mio lavoro non è il mio compito il mio compito è quello di spiegarvi a livello salariale a livello di quello che penso io nella mia ottica nel mio ragionamento quello che potrebbe accadere sostenuto da i numeri e sostenuto dalle mie convinzioni che ripeto sono mie quindi sono ovviamente sempre corrette non non sbaglio mai e di conseguenza lo streamer ha sempre ragione di conseguenza quello che dico in questo video accadrà sicuramente già lo sapete ovviamente dissociandomi da queste ultime da questi ultimi 30 secondi e specificando per i nuovi arrivati che non è vero vado avanti nello spiegarvi perché ci sono degli intoppi allora qualcuno potrebbe dire vabbè Miami lo prende facile scambia Debaio no a Debaio così come Devin Booker non possono andare ai Brooklyn Nets per questo motivo il motivo è la designated rookie scale player extension conosciuta anche come Rose Rule in sostanza quello che parlavo prima la Rose Rule cosa dice la Rose Rule dice tu puoi prendere un giocatore ok un rookie tu hai un rookie ok perfetto tu a questo rookie gli dai 5 anni di estensione ok aggiungi 5 anni al precedente rookie scale contract quindi il rookie scale contract è quello 2 più 2 no quello classico del rookie perfetto per firmare questa estensione il giocatore deve qualificarsi come veteran free agent alla fine del suo contratto da rookie ci siamo gioca per 4 anni è un veteran free agent un giocatore firmato in questo modo deve avere il primo anno di contratto che parte da almeno il 25% del salary cap da almeno quindi deve essere il massimo salariale per un rookie ok se tu dici questo giocatore è un designated rookie scale player tu gli devi dare il 25% del salary cap perché ve lo dicevo prima gli anni di esperienza un rookie è al quarto anno quindi massimo il 25% del salary cap sposto così vedete il calcolo su excel eccolo qua quindi il 25% del salary cap da 7 a 9 anni è il 30% il super max è il 35% ok ma cosa dice la rose rule la rose rule dice che quindi tu hai un designated rookie scale player extension perfetto ok se questo giocatore però raggiunge uno dei max performance base criteria che sono quelli di prima quindi vincerle MVP almeno una volta in ultimi tre anni fare l'all team o l'NBA almeno nell'anno corrente oppure due volte negli ultimi tre oppure il defensive player of the year nell'anno corrente o due volte negli ultimi tre anni scatta il 30% del contratto ok quindi è quello che ha firmato Morant è quello che ha firmato Zion ok se loro quest'anno fanno uno degli MPPC quindi che ne so Morant fa nuovamente non lo so è quello che ha firmato anche Garland ad esempio Morant Garland e Zion fanno il terzo quintetto NBA tutti e tre perfetto quando scatta l'estensione non è 193 milioni ma è 231 perché è il 30% del salary cap ok l'estensione prevede un aumento anno dell'8% quindi diritti bird e ci siamo nessuna squadra questa è la chiave di tutto il discorso nessuna squadra può avere più di due contratti designated rookie e uno dei due contratti può essere ottenuto tramite trade uno e uno quindi tu hai che ne so facciamo finta non lo so facciamo in X ok in X danno il designated rookie a Barrett e a Quigley ok perfetto possono farlo sì perché sono due draftati da te ok poi c'è il caso in cui facciamo l'esempio dei facciamo l'esempio dei che ne so facciamo l'esempio dei Celtics ok in basso in rosso avete il motivo per cui Anthony Davis non poteva andare ai ai Boston Celtics se vi ricordate quando c'è stata la diatriba Davis ai Lakers ma no vai Celtics perché danno Tatum Brown Stevens e tutti quanti insieme no perché perché Anthony Davis era un giocatore designated rookie ma lo era anche Kyrie Irving ma Kyrie era stato tradeato da Cleveland e la regola dice che non puoi avere due giocatori designated rookie presi tramite trade quindi per riassumere è o ne hai due tuoi o ne hai uno tuo e uno tra i dato quindi sempre due ma uno è tuo e uno invece l'hai preso tramite trade oppure non puoi avere due giocatori designated tra i dati quindi due tuoi uno e uno oppure niente non puoi averne due tra i dati ok Adebaio è sotto quel contratto yes Booker è ancora sotto quel contratto yes Ben Simmons che contratto ha? è un designated rookie anche lui di conseguenza essendo Ben Simmons stato tradeato da Philadelphia ai Nets né Devin Booker né Adebaio possono andare ai Nets a meno che Ben Simmons non venga mosso e qualcuno può chiedermi ma Booker ha firmato l'estensione come è possibile che non può essere scambiato Booker ha firmato un'estensione ma l'estensione parte nel 2024 Booker è ancora sotto il contratto designated rookie ok poi nel 2024 scatterà la leggerissima estensione da 224 milioni dove percepirà il primo anno 50 milioni di dollari ok quindi il discorso è questo Booker ha esteso sì ma il contratto è ancora quello vecchio lui è esteso per quando scadrà il suo vecchio contratto ma questo contratto è ancora un designated rookie di conseguenza non può essere mandato ai Nets per questo motivo quindi i Nets cosa devono fare dovrebbero tradeare Ben Simmons o insieme a Durant o a una terza squadra per poter assorbire uno tra Adebaio o Booker oppure niente perché entrambi non possono perché non possono entrambi perché sarebbero due giocatori rookie designated rookie tra i dati e i Nets quindi non possono prendere sia Adebaio sia Booker per questo motivo quindi la situazione qual è al momento la situazione è che i Nets vogliono Booker ma non possono averlo perché c'è Ben Simmons quindi scambi Ben Simmons la domanda è chi vuole Ben Simmons perché da quando è arrivata ai Nets Simmons non ha mai giocato da quando è arrivata ai Nets Simmons non si è mai visto non si sa in che condizioni sia non si sa niente l'unica cosa che si sa è che piglia il massimo salariale quindi devi pagarlo per altri tre anni e quindi alla fine che succederà secondo me alla fine succederà una roba di questo tipo io ero partito da questa trade e questa trade è stata proposta sì questa trade fonti rumor dicono che questa trade Pelinka l'abbia proposta a Sean Marks che è il GM dei Nets ovvero Westbrook Orton Tucker e una pick al primo giro molto probabilmente quella del 2028 quasi sicuramente per Kyrie e per Joe Harris i Lakers invece preferirebbero Curry Seth Curry ovviamente Stephens sarebbe meglio ma anche Seth ce lo facciamo andar bene il problema è che dal punto di vista salariale per i Nets sarebbe un problema mandare Seth e non Joe Harris perché perché Seth piglia 8 milioni Joe Harris ne piglia 18 quindi i Nets rimarrebbero comunque molto molto vicini alla Luxury mandando via Seth Curry e non Joe Harris quindi sicuramente Joe Harris da qualche parte finisce in questo pacchetto Joe Harris verrà mosso quasi sicuramente per cercare di fare un attimino di abbassamento salariale ok cercheranno di contenere quanto meno quello che si può contenere i danni devono essere limitati in qualche modo chiaramente perdi Kyrie che vabbè lo mettiamo da parte ma perdi Durant qui non si tratta di decidere quali sono le tue mosse future come sarà la squadra no ma sai che Westbrook non lo prendo perché non costa bene con Ben Simmons poi magari prendo anche Eiton quindi immagina Westbrook Simmons ed Eiton in campo non sono i discorsi che stanno facendo a Brooklyn uno perché Westbrook lo buyouttano subito o lo tagliano secco o magari più avanti nella stagione ma Westbrook non finisce la stagione in ETS se va in ETS seconda cosa in ETS diventano un progetto futuro quindi non ne può fregare di meno della stagione prossima cioè i Nets non si presentano al training camp di questo settembre per vincere si presentano per cercare di ricostruire come hanno fatto dopo l'all-in con Brooke Lopez Pierce Garnett e Deron Williams che hanno tirato fuori comunque Leverre Di Angelo Jarrett Allen quindi ritornare in quell'ottica lì nell'ottica Atkinson nell'era Atkinson quindi cercare di tirare proprio fuori il sangue dalle rape lo farebbero in modo chiaramente con Durant in maniera molto più decisiva scambiandolo perché il ritorno sarà mastodontico però ecco quindi a ETS non gliene frega niente di come sarà la squadra a ETS interessa asset interessano pick interessa avere ritorno su cui ricostruire su cui ripartire non si fanno calcoli Westbrook Simmons Atkinson nella stessa squadra non tira nessuno giochiamo a perdere eccetera certo gode Houston per carità non sto dicendo che Houston non gode perché Houston ha le pick dei Nets per Arden quindi in questo momento a Houston stanno sfregando le mani in maniera abbastanza insistente però non è questo l'ottica del discorso l'ottica del discorso secondo me è un'altra abbiamo detto Phoenix e Miami il problema è che Miami ha queste pick e purtroppo la 25 la 26 sono incluse ovviamente con Oklahoma City quindi cosa succede succede che la 24 non possono darla perché la 25 potrebbero non essere loro ma neanche la 27 possono dare quindi Miami può dare la pick di quest'anno e la pick 28 al momento ad oggi ok più un pick swap a meno che Oklahoma City non decida di far crollare quelle protezioni o accetti che quelle protezioni finiscano da Miami a Brooklyn quelle pick non possono essere mosse ok quindi Miami al momento non ha solo due pick al primo giro da dare e chiaramente per Kevin Durant due pick non bastano pick pick irro robinson yurt seven strus e lauri non bastano non bastano almeno per me non bastano a meno che Durant dica proprio mandatemi a Miami a tutti i costi che tra l'altro non è neanche volontà di Durant è volontà di Sean Marks perché Durant non è un free agent Sean Marks è il suo capo al momento quindi è Sean Marks e Joe Tzai che è l'owner il presidente il governor se volete usare la parola più esatta perché owner è stata bandita perché risulta razzista dal appunto nel nuovo CBA hanno detto che owner è una è un riferimento razzista quindi è governor adesso il nome dei presidenti di Franchigia io sono rimasto un po' all'antica non sono razzista sono rimasto all'antica quindi gli chiamo owner comunque governor quindi il governor dei Nets è Joe Tzai quindi chiaramente il capo è lui è lui che decide dove va Durant e non viceversa almeno nell'MBA come dovrebbe funzionare non dovrebbe essere Durant a scegliere però può essere Durant comunque a forzare la mano da questo punto di vista la risposta è sì Durant può forzare la sua destinazione però a livello di logica da parte dei Brooklyn Nets accettare Miami sarebbe folle sarebbe folle ok stavo leggendo dei tweet importanti ma niente trade in diretta ecco quindi se invece noi andiamo a prendere le pick dei Phoenix Suns ah ah ce le hanno tutte tutte le prime e tutte le seconde beh come dire secondo voi qual è la più vantaggiosa anche a livello di asset secondo voi è meglio avere Robinson e Irro o avere Bridges ed Ayton anche se a quanto pare Ayton i Nets non lo vogliano vogliono cercare una terza squadra quindi forse è per questo che stanno un attimo oltre per il fatto che vogliono anche Booker e chiaramente Phoenix dice no grazie a parte che non puoi prenderlo gli stanno dicendo guarda che non puoi prenderlo per la per la designated rookie scale extension quindi è inutile che ci chiedi Booker non te lo possa andare perché le regole in biett ti dicono che non è così che succederà secondo me alla fine secondo me succederà qualcosa di molto vicino a questo succederà qualcosa di molto vicino a questo ora possono essere due trade separate ok non è detto che sia un'unica trade ma sulla carta secondo me accadrà qualcosa di simile ovvero i Nets pigliano tutto tutto perché nella situazione in cui sono i Nets non puoi stare a discutere se ti arrivano queste tu pigli tutto cioè se Phoenix mette sul piatto quattro non protette più pick swap più i Lakers ti danno la loro scelta al primo giro 2028 perché è la prima che possono dare tu pigli tutto in più ti arriva Eiton per Sun and Trade firmato al massimo salariale perché per questioni di salary cap per questioni di base air compensation ma questo discorso già l'ho fatto c'è il video su Deandreight nella base air compensation che potete recuperare se non sapete cos'è Westbrook ovviamente deve entrare per Kyrie perché se no non c'è modo di farlo Bridges sicuramente entra nel discorso perché altrimenti non ha senso Orton Tucker finisce nel pacchetto per Kyrie quello è poco ma sicuro Cam Johnson entra anche lui sicuramente dentro questa trade perché Phoenix vuole profondità quindi Bridges Eiton e Cam Johnson secondo me più Orton Tucker che vabbè pare una busta di piscio sono d'accordo però a 21 anni in un contesto diverso più libero meno opprimente come quello dei Lakers potrebbe anche far vedere qualcosina come è successo ad altri giocatori ex Lakers che sono finiti in altre franchigie e parevano tutti fenomeni tranne Randall e Kuzma ovviamente ma due merde erano e due merde sono rimaste comunque secondo me accadrà qualcosa di molto vicimile di molto volevo dire vicino e simile e ho detto vicile l'ho fuso insieme molto vicino a questo potete swappare Curry con Harris comunque la trade funziona comunque sia che mandiate Joe Harris a Phoenix che lo mandiate ai Lakers diciamo che i rumor dicono che i Lakers vogliono tutti i costi Seth Curry anche per un discorso di scadenza perché comunque Lebron scade un anno Kyrie scadrebbe un anno Curry scadrebbe un anno di conseguenza libereresti tutto fai l'all in quest'anno e poi l'anno prossimo vanno via tutti e vedi cosa fare per i Suns ovviamente prendendo 4 anni di Durant i 2 anni di Joe Harris te li puoi anche tenere ok quindi sostanzialmente Joe Harris avrebbe più senso a Phoenix per un discorso di continuità ok poi certo potresti estendere Seth Curry è vero però magari Seth Curry piglia più soli da altre parti e quindi se ne va però a livello di anni avrebbe più senso che Harris finisca ai Suns anche se Curry è un giocatore migliore di Joe Harris questo è poco ma sicuro per me accadrà qualcosa di simile poi o magari Durant tornò a Cloma City per 14 pick io questo non lo posso sapere e non credo che accadrà però secondo me Phoenix ha le maggiori chance di mettere di mettere le mani su KD tutte pick ha tutte le pick al primo al secondo giro ha asset giovani da dare Hayton Bridges Cam Johnson che comunque ha 26 anni però possiamo dire che comunque è un giocatore giovane tutte le pick di sto mondo attuali future non protette poi magari sicuramente metteranno qualche protezione magari top 5 come ha fatto Minnesota con Utah magari mette la 2029 protetta top 5 la 2028 pick swap favorevole per i Suns e non per i Nets poi le cose vanno gestite in questa maniera poi diciamo le clausole a livello di pick vanno poi studiate tra GM e GM però io se fossi Nets e i Suns mi offrono questo io accetto immediatamente cioè io capisco che chiaramente i Nets cercano di rialzare più che possono cercano di pensare di poter prendere Booker magari vogliono mandare Durant e Ben Simmons entrambi a Phoenix in questo modo si apre lo spazio per prendere Booker o in quel caso potrebbero prendere Booker ma Simmons dovrebbe finire a Phoenix sarebbe una roba assurda sarebbe sarebbe Ben Simmons da 5 innanzitutto e sono sempre lì però sarebbe CP3 KD secondo me Crowder lo tengono perché è un giocatore troppo importante per Phoenix quindi non credo che tradino Crowder anche perché i Nets di un annuale come Crowder non se ne fanno niente buyoutarlo a che fine cioè perché buyouti Crowder lo tradi di nuovo più avanti nella stagione sì ma perché Phoenix dovrebbe liberarsi di un contratto annuale che i Nets insomma poi essendo annuale non lo tradi per poco quindi a sto punto non lo tradi nemmeno i Nets non te lo chiedo neanche secondo me parere personale non te lo chiedo neanche quindi ecco Bridges Johnson e Eiton secondo me è un pacchetto che più 5 pick ovviamente perché ripeto a livello di pick parliamo di cose stratosferiche purtroppo più di quelle che è andato per Gobert non si può fare o meglio si può fare inserendo pick swap negli anni intermedi quindi 23 23 non protetta 24 pick swap 25 non protetta 26 pick swap 27 non protetta 28 pick swap 29 non protetta questo è il massimo che Phoenix può fare ok quindi 5 secche e 3 pick swap è chiaro che per 4 anni saranno pick molto alte perché sulla carta condurente alle finals ci vai più o meno ogni anno con quella squadra lì ha maggior ragione se Booker rimane però poi una volta che va via KD una volta che Chris Paul va via rimane solo Booker e poi lì c'è tutta una situazione da vedere per quanto riguarda i Lakers è il meglio che potrà cioè nel senso cioè vabbè devo parlare anche del furto dei Lakers che stanno combinando sia che arrivi Joeris che arrivi Curry nel senso per i Lakers è un furto a prescindere perché va via a Westbrook ok poi Kyrie ritorna nella sua sciamano mod che non gioca mai perché c'è i cazzi suoi ok però hai mandato via a Westbrook hai comunque preso Curry di ritorno o Joeris quindi comunque qualcosa hai preso di ritorno e almeno hai anche risparmiato salarialmente perché qualcosina anche a livello di Luxury Tax te la risparmi che va sempre bene per la signorina Bass però per i Sanz ripeto per Durant questo è cioè meno di meno di quattro pick non volano anche se dai anche se finisse aiuta per Donovan Mitchell facciamo finta che non può però fa niente perché Mitchell è un designated rookie però anche se andasse via per per un giocatore del genere per un giocatore giovane come Mitchell ad esempio non bastano tre pick cioè parliamo di Kevin Durant al top della sua cioè neanche al top della sua forma sarebbe da dire però almeno di un top 5 NBA qui non si scappa cioè ripeto qui veramente non si scappa questa è l'altra trade se volete è la stessa praticamente siamo nella stessa ottica siamo alle stesse cifre però le pick diventano più compiti siamo più lineari ci sono pick swap e quant'altro ma anche il ritorno stesso è molto più magro secondo me Duncan Robinson cestinato da Miami dopo l'estensione Laurie ciccione di merda Irro boh secondo me non è una garanzia come Bridges mi dispiace ha molto più potenziale ma è molto meno costante e anche di Eiton per certi versi e per me Eiton è un giocatore migliore di Irro ve lo dico per me obiettivamente ha molto meno senso per i Nets ripeto Durant è un giocatore che è sotto contratto non è un free agent quindi i Nets devono fare il loro bene non solo quello di Durant se vogliono farglielo ricordiamo la 3 di Kawai spedito a Toronto senza ritegno poi vabbè è andata un po' diversamente da come gli Spurs speravano però insomma qui sono i Nets che si giocano in futuro non Durant non è Durant che firma per qualcuno da free agent o per Sun & Trade questa è una trade vera e propria quindi i Nets devono pensare a loro prima di pensare a Durant visto che è Durant che ha chiesto pure la trade di conseguenza a maggior ragione devono pensare per loro stessi però secondo me non c'è paragone con l'offerta dei Suns l'offerta dei Suns è superiore sotto ogni punto di vista asset pick talento per me i Suns sono estremamente in pole position e alla fine i Nets dovranno cedere perché Booker ripeto non può andare tradare Simmons non ha alcun senso chi te lo piglia non lo so chi lo vuole nemmeno per me l'offerta dei Suns è impareggiabile al momento non vedo obiettivamente come qualcos'altro possa schiodare questa situazione a meno che non ci siano squadre che fanno follie complete ma obiettivamente non cioè a meno che Denver non impazzisca e metta e metta dentro MPJ e e il Pornostar e facciano Durant Jokic e Gordon per me non c'è veramente modo di cioè non c'è nessun'altra offerta che va a pareggiare questa i Suns non sono arcappati quindi possono tranquillamente pigliarsi quegli 11 milioni e passa in più possono pigliarli assolutamente senza alcun problema nessuno è arcappato in questo momento ufficialmente quantomeno quindi obiettivamente obiettivamente se io fossi Nets questa qua non la rifiuterei mai nella vita poi ripeto possono essere due trade separate quindi non per forza così perché qui le ho unite insieme qui la regola del touching e quant'altro ma a livello di asset a livello di pezzi che si muovono per me questa trade qui è la per i Nets è la migliore poi è vero i Suns sarebbero un carro armato però la palla è rotonda anche quest'anno erano un carro armato è vero però Durant sposterebbe ancora un pochino la situazione però sarebbe una clamorosa ovest così Kyrie Anthony Davis celebrano da una parte contro Durant CP Free e Booker dall'altra insomma con con Denver dove rientra il Pornostar con MPJ che speriamo che non si spacchi di nuovo con una Memphis rampante con i Clippers che tornano al gran completo insomma sarebbe un ovest mostruoso l'Est rimarebbe comunque di altissimo livello con Milwaukee Philadelphia Miami comunque sarebbe una sarebbe un NBA ovviamente molto diciamo shifted spostata dalle canoniche cose ma chiaramente sarebbe un sarebbe una trade senza precedenti questa quindi ecco ho parlato più o meno di tutto quello di cui volevo parlare in questo primo video di ritorno da qualche settimana ovviamente c'è molto di cui parlare ma quando arriverà poi l'ufficialità della trade di Durant andremo a vedere quindi chi ha fatto l'offerta migliore secondo i Nets e perché io a questo punto vi chiedo la vostra dove va a finire Durant e dove va a finire Kyrie perché secondo me Kyrie obiettivamente è già dei Lakers io onestamente non vedo altre non vedo altre squadre per Kyrie l'unico scoglio è vedere se va Joe Harris o va Seth Curry a Los Angeles insieme a lui perché Westbrook e Orton Tucker sono già a Brooklyn per Kyrie questo è poco ma sicuro manca solo il pareggiamento salariale con uno tra in realtà dovrebbe essere Joe Harris se invece va solo Westbrook può essere solo Seth Curry quindi può essere Westbrook per Kyrie Seth Curry è una pick futura e Orton Tucker te lo puoi tenere vediamo insomma vediamo quale potrebbe essere per i Lakers ovviamente è meglio prendere Curry che Joe Harris per i motivi spiegati prima per i Nets sarebbe meglio dare Joe Harris per i motivi spiegati prima a livello salariale fatemi sapere allora cosa ne pensate di tutto quanto io vi ringrazio vi saluto con un точito can you hear the sound we the revolution we the revolution we the revolution we the revolution Grazie a tutti.